Il giro del mondo in 80 giorni. Paspartout ha dei sospetti. I primi giorni di navigazione furono tranquilli. Phyllis Fogg si prendeva cura della bella Audà. Faceva in modo che non le mancasse nulla e andava spesso a trovarla. Non si poteva dire che facesse conversazione con lei, ma l'ascoltava attentamente pur senza mostrare mai la minima emozione. Da principio Audà rimase sorpresa del comportamento del suo salvatore, ma ci pensò Paspartout a spiegarle come era fatto Phyllis Fogg e a raccontarle pure della sua straordinaria scommessa. Anche l'ispettore Fix era salito a bordo del Rangoon. Aveva telegrafato perché il mandato di cattura gli fosse inviato a Hong Kong. Ma dove era diretto veramente il signor Fogg? E chi era quella donna affascinante comparsa all'improvviso al suo fianco? L'ispettore, che fino a quel momento aveva fatto di tutto per non farsi scoprire a bordo della nave, decise di avvicinare Paspartout per cercare di avere da lui le risposte ai suoi interrogativi. Così un mattino fece in modo di incrociarlo e lo fermò sul ponte della nave. «Signor Paspartout, anche voi qui sul Rangoon!» esordì fingendo sorpresa. «Signor Fix, ma come? Vi lascio Bombay e vi ritrovo sulla rotta per Hong Kong!» esclamò stupito Paspartout. «Non è che state facendo anche voi il giro del mondo!» «A proposito di giro del mondo, come sta il vostro padrone?» chiese Fix con non curanza. «Sta benissimo, tutto procede nei tempi previsti. Forse non lo sapete, ma una giovane donna viaggia con noi». Paspartout raccontò la storia della liberazione di Audà e Fix ascoltò interessato ogni particolare. Quel giovane era una vera miniera di informazioni. Giorno dopo giorno, birra dopo birra, la loro intimità aumentò con grande piacere dell'ispettore, che così sperava di conoscere in anticipo ogni mossa di Phyllis Fogg. Quanto a Paspartout cominciò a sospettare che Fix nascondesse qualcosa? A ogni tappa del viaggio spuntava sempre fuori. Possibile che fosse solo una coincidenza? Una spia? Ecco cos'era. Una spia pagata dai membri del Reform Club. Paspartout non disse niente a Phyllis Fogg perché temeva che la scarsa fiducia dimostrata nei suoi confronti dai soci del suo club lo avrebbe offeso. Decise anche di non mascherare Fix. Lasciò che l'uomo continuasse la sua recita dell'agente di commercio, che casualmente si trovava sempre dove erano Paspartout e il suo padrone. Fino a quel momento tutto era filato liscio, ma superato lo stretto di Malacca scoppiò una terribile burrasca. Il Rangoon fu costretto a rallentare e cominciò ad accumulare ore di ritardo. 20 ore di ritardo. In questo modo avrebbero perso la nave per Tokyo e anche la scommessa perché la nave successiva sarebbe partita solo dopo otto giorni.